Leonardo e la magia del tempo sino a domenica al Teatro Alfieri. 500 anni fa, calcolando nel 2019, morì Leonardo. Esatto, 1519, 2 maggio, arriva la notizia a Milano nella bottega di Leonardo che è gestita da Gian Giacomo Caprotti della sua morte. E quindi da qui nasce tutta la commedia ed è una commedia magica, lo dice anche il titolo della commedia, perché all'interno ci sono numeri di magia, di illusionismo, tra l'altro diretti in maniera straordinaria da Davide Allena. Tu oltre ad essere quindi attore integrante nello spettacolo, però sei stato il direttore dei numeri magici che avverranno. Per quanto riguarda la parte dei numeri magici sì, esatto. Mentre invece Alessandro Marrapodi interpreta il ruolo di Gian Giacomo Caprotti, che è il responsabile della bottega di Leonardo De Minci su Milano. Raccontaci un po' più di questo Gian Giacomo, entra già nel personaggio. Io sono Gian Giacomo Caprotti, voi Madonna che mi porgete, codesto microfono non conosco perché arrivo adesso dal 500. E con piacere vi dico che vivo appunto questo spettacolo con grande entusiasmo perché se il teatro è magia in questo spettacolo ancora di più lo è. La storia racconta appunto e parla di Leonardo Da Vinci. Ci sarà anche Leonardo Da Vinci, commedia essendo ambientata dalla notizia della morte di Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci comunque ci sarà e sarà proprio Mauro Villata. Sì, faccio io Leonardo, incautamente hanno affidato a me questo compito e comunque mi diverto perché faccio un Leonardo molto benignano. Ed abbiamo trovato gli altri quattro attori che fanno parte di questo spettacolo che ci hanno già detto che è abbastanza strano e particolare, Margherita. Sì, è uno spettacolo bellissimo, non perché lo facciamo noi, però è proprio uno spettacolo bello dove c'è di tutto. C'è magia, c'è non so cosa posso dire, anche fiaba, ci sono dei momenti teneri, c'è una storia d'amore, c'è tutti gli ingredienti. Quindi si ride, si pensa, si sogna, ecco. Cristian, ci ha anticipato che ci sono due personaggi di fantasia e mi sa che Franco e Margherita qualcosa c'entrano, vero Franco? Beh, sì, siamo di fantasia ma non lo siamo perché anzi siamo dei personaggi forse i più reali perché siamo due contadini, due servitori che sono lì. E questi ci sono sempre, ci saranno sempre, sono eterni, sono bei personaggi, personaggi umani, profondi, bello.